Sindaco, ieri De Luca ha detto anche che è arrivato un nuovo corso nei rapporti tra regione e comune. Sicuramente i rapporti con la regione sono dei rapporti ottimi, c'è un'ottima interesse istituzionale, adesso dobbiamo lavorare insieme nell'interesse dei cittadini, dei napoletani. È un momento molto importante per Napoli, per la Campania, per l'Italia, abbiamo la necessità di intercettare questa ripresa, c'è una grande voglia di ripartire e le istituzioni debbono essere all'altezza della sfida e anche delle aspettative dei cittadini.